Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. È morto Gianluca Vialli. L'ex allenatore e giocatore di calcio si è spento a Londra a soli 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas iniziata nel 2017. L'ex attaccante, che ha militato nella Cremonese, nella Sampdoria, nella Juventus e infine nel Chelsea, se ne è andato a pochi giorni dalla scomparsa di altri due nomi del mondo del calcio, Pelé e Mijailovic. Poche ore fa, uno striscione commovente era apparso sugli spalti di Cremonese Juventus, prima gara dopo la lunga pausa della Serie A per il Mondiale e le feste di Natale. Gianluca Vialli segna per noi, c'era scritto. Un coro tante volte sentito negli Stadi italiani. Il fatto che quelle parole siano state scritte proprio a Lozzini, lo stadio che ha visto nascere il mito Vialli, e davanti a due delle maglie della sua vita, è forse l'omaggio del destino più straziante.